Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane Adesso è il momento di Sergio Corato Allora, facciamo un applauso a Sergio Buon pomeriggio a tutti Che è anche un grande contributore Migliaia di righe di codice Vado meglio a fare il contributore che a fare il resto Va bene, va bene Allora, questo è il giraslide per te Buon lavoro Grazie Allora, io ho conosciuto Odoo nel 2010 Quindi è l'apparecchio che ci sono dietro Prima facevo il ragioniere Poi pian piano sono passato a fare il programmatore Perché mi piace molto E' una cosa che ho sempre trovato imbarazzante Nei programmi che ci sono normalmente Non poter avere una visione più completa Di quello che è l'azienda Quindi con una serie di altri dati Altre informazioni che ci sono dentro Ma non sono disponibili all'utente finale Adesso in questo talk parliamo di cash flow Qui ho indicato alcune cose relativamente al cash flow in generale Il cash flow è una cosa che interessa molto alle aziende Che hanno un po' di struttura E vogliono capire qual è la propria situazione finanziaria Il cash flow visto dal lato del ragioniere Ha una serie di varie possibilità di essere mostrato all'utente Quindi ci sono tante diverse tipologie di cash flow Che vengono tirate fuori da quello che è mediamente un bilancio contabile Quindi quando ha la disponibilità di bilancio contabile Il ragioniere tira fuori attraverso una serie di somme e sottrazioni Il valore dell'ingresso finanziario che ha avuto l'azienda Quindi questa è una cosa molto importante Per capire dove sta andando l'azienda E cosa sta producendo in pratica Perché una cosa è il risultato economico E una cosa è il cash flow Che è disponibile finanziariamente alla fine Quindi questa è una cosa che si può tirare fuori in maniera molto semplice Normalmente si può fare con una serie di calcoli Anche su un foglio di calcolo Oppure anche da un'estrazione dati Diciamo che questo è un approccio però molto statico Quindi mi fa vedere delle cose che sono esistenti nel passato Una cosa che è molto più utile per delle decisioni aziendali E avere il cash flow previsionale Che si vede con una previsione di quello che succederà nel futuro Quindi degli incassi e dei pagamenti che avremo nel futuro E con cui potremo andare a pagare quello che c'è da pagare Quindi è un approccio che è molto più pratico E si chiama cash flow operativo previsionale E' molto più utilizzabile a un livello pratico Quindi qui ho indicato alcune Allora in Odoo non ci sono in pratica attualmente Delle app che facciano questa attività Ci sono delle app magari a pagamento fuori Adesso quello che ho trovato io non ho visto Che lo facessi in maniera completa Qui ho fatto vedere che c'è alcuni dati Che possono essere estrapolati da Odoo Però non sono dati che mi diano un'indicazione Di cosa ci sarà in futuro E di cosa ci sarà in un livello completo Per il mio utilizzo finanziario Quindi c'è già a disposizione un strumento di business intelligence In Odoo che mi dà la possibilità di tirar fuori dei dati In maniera personalizzata Quindi estrapolando alcune informazioni In più rispetto a quelle che mi vengono fatte vedere normalmente Questo strumento è il Miss Builder Che mi propone di default all'installazione Una serie di moduli presenti Una serie di report già fatti Che mi danno alcune indicazioni di come può essere utilizzato Certamente non mi fanno vedere tutte le potenzialità Dello strumento perché è uno strumento Come fosse un foglio estella Diciamo senza offendere lo strumento In cui mi dà la possibilità di inserire una serie di query sul database E una serie di richieste che poi andremo a esporre In un formato esportabile, navigabile, visionabile dall'utente Quindi questa è una cosa che deve essere chiaramente insegnata Come si fa ad utilizzarlo E deve essere creato un report apposito Quindi non si può prenderlo così come sta Nel cash flow, nel modulo che è stato fatto per il cash flow C'è già la possibilità di inserire delle righe aggiuntive Per far vedere quali sono le future necessità finanziari Oppure anche i futuri ingressi finanziari E metterle su un report Quindi questa è una cosa che hanno previsto di fare manualmente E' una cosa che chiaramente non è molto pratica Quindi questo è l'esempio di quello che viene Che è già possibile fare con i moduli Che sono disponibili nella OCA Nel report apposito E questo è un esempio di un misbuilder cash flow Creato con una serie di conti che sono esposti E' navigabile, si può scaricare in Excel E qui sotto, nella parte sotto Sono visibili invece i movimenti che sono Delle righe create dall'utente Che sono fittizi E mentre quelli sopra sono dei movimenti contabili veri Quindi sono movimenti che sono stati creati da chiunque in precedenza E sono visibili in quella parte Sotto ci sono quelli che sono quelli creati manualmente Quindi questi valori previsti Sono da inserire come logica manualmente Però non è una cosa che sia molto pratico Né sia molto scalabile Perché chiaramente l'utente deve avere molto Molta attenzione in inserirli Cancellarli quando non servono più E così via Quindi questa è una cosa che chiaramente si può fare Però solo per le cose più evidenti E che non impegnano troppo l'utente Altrimenti è poco scalabile Quindi i dati che vanno ad influire sulle entrate e uscite E aziendali arrivano da una serie di oggetti Documenti in Odu Quindi ordini di acquisto Ordini di vendita Contratti Manutenzione Ci sono tutta una serie di cose che vanno fatturate O di cui si riceverà la fattura Che chiaramente in seguito dovranno essere pagate O incassate Quindi vanno ad influire su quello che è il mio risultato finanziario Il mio ingresso e il mio esborso finanziario Quindi questi dati di per sé però sono grezzi Perché non possono essere esposti in maniera diretta Quindi questi dati sono l'importo, il vato, la valuta Data prevista di arrivo per riga In questo caso un caso di ordine di acquisto Per cui devo ricevere qualcosa I termini di pagamento La banca di appoggio Le quantità ordinata, consegnata, fatturata Questi sono dati che abbiamo disponibili Perché sono di default Con una serie magari di moduli aggiuntivi disponibili Però dobbiamo ricavare degli altri dati da questi Perché a noi quello che serve è sì l'importo i vato Però ci serve averlo quando dovremmo pagare qualcosa Quando incasseremo qualcosa in base a quegli ordini di acquisto Di vendita o contratti eccetera Quindi per la quantità che mi resta da fatturare Consegnata o non consegnata Per la banca e così via Quindi una serie di dati che devono essere recuperati In maniera più dettagliata Quindi noi abbiamo dei dati grezzi E dobbiamo estenderli Quindi abbiamo fatto un modulo Che va a tirar fuori dei dati aggiuntivi Dai dati che ci sono già Quindi qui si vede che c'è un tab cash flow All'interno delle righe di ordine di acquisto Quindi ogni riga contiene dei dati aggiuntivi Che sono calcolati su termini di pagamento Valuta Importo fatturato E quindi il valore effettivo Che sarà da ancora Di cui dovremmo ricevere la fattura Chiaramente adesso qui facciamo un esempio Su un ordine di acquisto Un ordine di vendita sarebbe stato simile E quindi questo è visibile anche direttamente Perché il modulo è stato sviluppato così Nelle righe del cash flow Perché questa parte che c'è all'interno Dell'ordine di acquisto Queste righe Sono righe di cash flow previsionale Quindi all'interno di quelle righe Che abbiamo visto prima Con questo sistema Andiamo ad inserire delle righe in automatico Che sono collegate all'ordine La riga dell'ordine di acquisto Che hanno il modo di pagamento collegato Che utilizzandoli in maniera fissa Si può inserire una banca E quindi si può definire All'interno di un report Con dei filtri Magari più differenziati di questo Su quale banca dovremmo andare a pagare Quali acquisti riceveremo Nel mese X In base al termine di appagamento Spezzati per rata di pagamento In che valuta Su che E così via Quindi in modo da avere un resoconto Che sia molto più preciso E che sia soprattutto Già disponibile all'utente Senza dover andare a caricare Tutta questa serie di dati Che sarebbe Effettivamente poco plausibile Che un utente possa andare a inserire Tutte queste informazioni Quindi qui Si vede che il report è navigabile Quindi si clicca sull'importo Escono una serie di righe Che mi fanno vedere Tutti i valori che ci sono All'interno di quella Di quell'importo Di quel valore Quindi Chiaramente adesso qui Non è stato esposto Suddiviso per modalità di pagamento Banca Però quella sarebbe Anche la finalità Più pratica Quindi qui ho indicato In questo caso Non ho fatto Una Una PR Su Sul report Della OCA Però Sarebbe una cosa Pratica Ho fatto un modulo Che sia Di base Per poter Estendere La funzionalità Ai diversi oggetti In maniera Semplice Quindi ho fatto un modulo Il primo Inheritable Che è il modulo Di base Che va a modificare Delle cose Di base Per essere più Facilmente Estensibili Ho fatto un modulo Di esempio Cashflow Purchase Che è Relativo A quello che sono Gli acquisti Adesso Se vogliamo Vedere un attimo Sul codice Questo adesso È il report Della OCA Missbuilder Cashflow Sulla 14 Questo è Il miss Miss cashflow Qui in pratica Si vede che c'è Questa Classe In cui Viene creato Un report Tramite Una query In cui Vengono unite Le due I due oggetti Account Moveline Non so se si vede La stampa Fai un po' Lo zoom Aspetta Allora Qui si vede Questa query Che serve Perché È molto più Veloce Rispetto a Una ricerca Fatta tramite Odu stesso Quindi in alcuni Casi è necessario Usare le query SQL Quindi qui Si vede che viene Unito Una query Union all Con un'altra query Relativa alle Righe di Miss cashflow Forecast line Quindi questo è Il modulo Che fa Questa Funzionalità In cui espone In questo In questa parte C'è la creazione Dell'oggetto Della riga Di cashflow Forecast E quindi qui Vengono inserite Un modulo Un oggetto Standard Di qua C'è il report Che unisce I due oggetti Per farlo vedere In maniera Veloce E pratica All'interno Del report Qui in questo Modulino Inheritable Ho messo insieme Oltre A quella query Che c'è già L'ho Diciamo Sovrascritta Per renderla Utilizzabile Anche ad altri Moduli Che la Editano Successivamente Quindi qui Ho staccato La parte Di Creazione Del report Con una funzione Che fa Che crea La query Separatamente In modo da Renderla Estensibile Quindi Nei moduli Quindi successivi Che vanno A A Utilizzare Questa funzione La funzione Va a Riprendere La query Come è stata fatta E va Ad aggiungere Un'altra Query Relativa A Quel Pezzo Che abbiamo Aggiunto In questo caso L'oggetto È il Purchase Order Il Miss Sempre il Miss Cashflow Forecast Line Però Prendendo la parte In cui vado ad inserire Le righe di tipo Process Order Line Quindi Qui Con questo Abbiamo In pratica Creato Un modo Per cui Potrò andare A aggiungere Altri Gli altri oggetti In maniera pratica Anche per Per chiunque Volesse andare A sviluppare Qualcos'altro Quindi Questa è la modalità Standard Di lavoro Che si usa Sulla Sulla OCA Di poter Creare le cose In maniera Estensibile Senza dover Andare Ogni volta A lavorare In maniera Staccata Uno dall'altro Così da essere Più Utili Chiaramente Perché Quando si Lavora In più persone In più gruppi Sulle stesse Funzionalità E le si estende Si riesce A rendere Di più E a Dare di più Ai propri clienti Con meno sforzo Che è una cosa Siamo tutti copioni L'agognato Sforzo Il meno sforzo Grazie Sergio Per voi Questo modulo È attualmente Disponibile Per la 12 Io l'ho messo Sulla 12 Perché il cliente Che lo sta usando È sulla 12 Ho fatto un refactoring Per renderlo così Estensibile Perché prima Era una cosa Più Semplice Fatta Come sempre Velocemente Senza perdere Tanto tempo C'è un pop up Sul Sì Le righe automatiche Sulla scherma Che non si Non ci consente Di leggere Le righe automatiche Previsionali Sì Aggiorna Forse in automatico Il variare Sì Infatti Sì sì Si aggiorna In automatico Quindi sul Sul modulo C'è una Quella non è più Sul modulo Ci sono Chiaramente Alla O alle Varie modifiche Che ci sono Se quei campi Sono modificati Visto che Non è possibile In quel caso Fare un Depends Su quei campi Si va Ad aggiornare Quelle che sono Quelle righe Quindi Una cosa Che chiaramente È necessario fare Altrimenti Sarebbero Di tutto Inutili Se non sono Aggiornate Domande Altre domande Non ce ne sono Ok Io intanto Ti ringrazio Perché sei stato Nei tempi 3T73 2 Un applauso A Sergio Grazie Odoo Italia A fianco Delle imprese italiane E A A A A A A A A A Grazie a tutti.